Buongiorno, io sono Riccardo Felicetti, sono un socio dell'azienda, mi occupo prevalentemente dell'area commerciale, per cui acquisti e vendite, soprattutto vendite e mi occupo anche ultimamente sempre più di quelle che sono le ispirazioni che devono portare l'azienda a compiere i suoi investimenti, quello che farà in futuro, quelle che andremo a produrre, quali saranno i mercati nei quali andremo a vendere i nostri prodotti. Il 60% della pasta che produciamo è biologica e questo, assieme all'area delle Dolomiti, fa sì che il territorio giochi un ruolo fondamentale nella produzione della nostra pasta. Il pastificio Felicetti nasce nel 1908 per volontà del mio bisnonno Valentino, che si è trasformato da operatore edile in pastaio per fare in modo di rimanere a predazzo, mentre prima peregrinava per tutto l'impero austro-ungarico. Da allora la filosofia dell'azienda è sempre stata quella di continuare a crescere, crescere rispettando l'ambiente all'interno del territorio e cercando sempre di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti che facciamo, sia partendo dalle materie prime, dai grani duri, dalla selezionatura che ne facciamo, assieme agli agricoltori, assieme ai mugnai, per arrivare fino alla produzione, per cui al processo produttivo, la tecnologia che per noi è decisamente importante, i sistemi di essiccazione che sono altrettanto importanti, la sicurezza alimentare che oggi ancora più che al solito è diventata determinante per garantire al consumatore un prodotto sano, sicuro e che possa essere anche gustoso. Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra volontà, questo è quello che facciamo quotidianamente. Per questa ragione già da tempo questa azienda si è dotata di un sistema di cogenerazione e di un sistema fotovoltaico, assieme a questi due sistemi contribuiscono a ridurre l'impatto energetico di più del 10%. Al ricevimento della merce la materia prima viene analizzata, controllata e tutti i dati vengono inviati alla produzione, nel frattempo la materia prima viene insilata e normalmente nel giro di 24 ore dalla macinazione, per cui ancora con una materia prima molto fragrante, il prodotto viene trasformato in pasta. Poi il prodotto dopo un periodo di stabilizzazione, che può essere più o meno lungo, viene inviato alle linee di confezionamento dove viene confezionato e spedito alle varie succursali e filiali di coppia. Grazie. 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 Grazie.